ciao ragazzi ciao ragazze ciao ragazze nuovo video che che riccio come state spero bene allora questo video mi piace un po di più allora dunque innanzitutto come sempre non ricordo ma questo è un video di saluti oggi saluto la stefania ausilia tonno e tante altre caso mi metto tutti i link dei nomi dell'info box e niente che ti non sono uscito tutto il giorno neanche oggi ma vabbè dettagli esistono un po perché siete stortine sì e niente sono uscita un po anche oggi cioè non sono uscita per niente devo dire però perché mercoledì devo riuscire a andare al mare dopo devo uscire ancora non dopo sarebbe di sabato dovrei uscire ancora fare un altro bagno ancora quindi vediamo quanto mi tocca se invece un caldo così è troppo cioè non esco per niente anzi oggi si sta bene ma se dovesse rifare ancora caldo non esco per niente poco ma sicuro niente e poi niente che dire oggi mi ho guardato quasi tutti i vostri video ancora devo ricordare altri e niente tutto lì tranquille vado a parte dei vostri video non di tutti perché è umanamente impossibile ma ce la devo fare in qualche modo mi guardavo intorno se ho recuperato il microfono ma mi pare che me l'ho dimenticato in camera cioè in sala aspettate un attimo torno subito e rieccomi qua allora questa volta mi ha attaccato al microfono perché altrimenti non si sente niente io non so perché non ho messo ben il microfono come dovevo aspettate un attimo perché qui ogni volta è un casino ma vabbè dettagli si stiamo la telecamera aspettavo a farlo anche prima perché questi sono il bello della diretta e va bene così e niente allora ragazzi miei e per dirvi semplicemente che so che non tutti piace l'SMR ma a me piace l'SMR non è che mi piace da salta di gioia ma so che a voi vi piace l'SMR ma non a tutti ho notato nei commenti non a tutti piace l'SMR me ha colpa ma a chi piace fa star bene l'SMR io lo farò lo stesso non per cattiveria non perché non voglio farlo ma perché a me piace fare l'SMR tutto lì e niente tutto qua quindi oggi ho evitato di fare il letto perché so che è una noia mortale vedermi fare il letto e lo capisco perfettamente l'ho già fatto off camera ovvero senza registrare il video e spero che questa cosa sia apprezzata che io mi faccio il letto off camera e poi registro il video che dice come questi che faccio io e niente già quindi tutto sommato questo video lo carico così com'è e se piace bene se no amen pazienza pazienza non muore nessuno per un video che non tanto vi seguito pazienza non so cosa dirvi però a me piacciono questi video così infatti come dite voi tanto per e niente a me questi video così mi piacciono aspettate che voglio vedere se si sente il microfono o se si sente qui almeno io spero che si sente in qualche modo il video avvero dato fastidio toccando le cose non devo toccare il microfono perché so che do fastidio altrimenti comunque niente se siete sopra appoggiati sotto il cavalletto e sto registrando il mio Galaxy Samsung A13 e pare molto buono come ripresa pare buonina buonina per modo di dire perché ha delle pecche io lo vedo un po' sgranate i video ma voi mi dite che li vedete bene va bene così allora non so cosa dirvi cioè sarebbe bene caricarli da computer i video ma io preferisco arrangiarmi tutto col telefono e va bene pazienza va bene così ok ragazzi mie ragazzole mie dunque all'inizio ho fatto il video senza microfono infatti penso che si sia sentito malissimo credo non lo so però col microfono è tutta un'altra cosa ditemi voi se non è così il microfono fa tutto ragazze ma a me il microfono mi piace davvero tanto e si sente davvero tanto col microfono è vero KineMaster perchè sto usando KineMaster come programma di montaggio però va bene anche Kaptkut Kaptkut come si chiama lui col programmino lì per montare i video mettere musichette ma con KineMaster non è male in shot lo stesso è bello con un programma molto intuitivo anche Movie Maker o iMovie quello per Macbook e iPhone e iPad è molto buono tutti quei programmi con tutti quei programmi non riesco neanche a parlare vedete voi e niente se sentite la musica sottofondo è la televisione che è alta a palla ma io non ci posso fare niente è nulla quindi che dire nulla oggi appunto sono stata poco al mare anzi poco al mare se sto straparlando perchè sono stanchissima però mi andavo di fare questo video ed eccomi qua allora oggi ero tutto il giorno in casa e lo ribadisco fino alla fine del video anche se mi ripeto senza senso perché alla fine è un video senza senso però pazienza allora vi dicevo dunque che non sono stata peniente al mare oggi tra l'altro vi voglio farlo rivedere siccome che il video ASMR è il video della della borsa è piaciuto a tutti ma non a tutti e quindi a tutti si tranne che a un'altra la mia iscritta cioè Anna Indoscana e pazienza cosa volete che vi dica mi è piaciuta comunque adesso vi faccio la versione normale del video what's my bag summer per andare al mare un attimo solo e rieccomi qua allora sperando che il video non sia riuscita all'incontrare perchè sennò c'è da incavolarsi veramente se no lo rifaccio non è un problema per me fare il video allora come prima cosa pesco da questa borsa qua summer ovvero Italian questa borsa estiva da mare l'asciugamano perchè l'asciugamano mi occorre per asciugarmi o per stare stessa sul bagno asciuga poi i miei amati Vichy che lo sto ancora utilizzando ma per poco perchè tanto ho anche questo qua o anche questo qui a spray della Roche o Roche come si dice Roche si 21,99 l'ho pagato ma ai tempi che lo acquistai perchè ce lo dò un bel po' ma fa ancora la sua buona funzione ed è un 50 più UV vedete un 50 più poi questo come vi dicevo da prima Capital Soleil SPF 50 top fenomenale per non ascoltarsi e un'altra da viso sempre SPF 50 più molto buona anche questa me la spalmo su tutto il viso e sono a posto poi c'ho cosa c'ho qua il mio portafoglio e i miei portaocchiali della Lujo non so cosa voi possiate vedere della Lujo e come dire è questo portafoglio che dentro all'interno adesso non ve lo faccio vedere perchè non è il caso o se non ve lo faccio vedere dai da una parte all'altra metto le mie chiavi e me le intasco nella adesso non so più chiuderla perchè mai aspettate un secondo ok ce l'ho fatta chiuderla è un po' un casino chiuderla sto zaino scusate questo portafoglio poi questa vi dicevo appunto è della Lujo ed è il mio ehm del mio portaocchiali della custodia della marca francese dei miei occhiali tutto lì con dentro la mia pezzetta vedete la pezzetta e niente ragazze la uso quando mi si insozzano gli occhiali ora rimetto tutto dentro ehm ma non non subito appena chiudo il video e riguardo se il video non è uscito all'incontrario per quanto mi riguarda a me aspettate un secondo voglio vedere se ho messo la rotazione perchè non ne sono sicura aspettate eccoci qua allora ragazze mie e ragazzi miei non so cosa mi avete visto finora ma ho cercato di inquadrare tutto bene allora ribadisco questo è il mio il mio asciugamano le mie protezioni solari più 50 e il mio portafoglio con dentro ci metto le chiave di casa e qua la mia custodia questa è la mia borsa da mare come potete ben vedere borsa da mare la vedete? sì e questi sono i suoi manici per tenerla a braccetto o così o a spalla ok? niente per chi volesse vedere i video in versione normale eccolo qua l'ha trovato lo troverete perchè ce l'ho messo finalmente perchè so che non tutti amano i video ASMR quindi in qualche modo vado anche a secondare i video quelle che vogliono vedere i video normali tutto lì in versione normale e non sussurrato ok? punto niente ragazzi miei non voglio essere né acida né troppo mielosa però si dà il fatto che chi vuole vedere i video ASMR li guarda con tranquillità sul mio canale chi no? va bene accontenta anche gli altri e per quanto riguardi i video di polizia io continuerò anche a fare i video di polizia se mi riesce non entro in bagno a fare i video di polizia perchè il bagno è piccolo è scomodo ho anche il terrore di far cadere il telefono in qualsiasi punto del bagno tipo se mi scappa perchè io ho le mani un po' di ricotta come suol dire le mani molli e mi può cadere facilmente il telefono e ciao ciao mi tocca usarne un altro di scorta che ho qua si perchè voi non lo sapete ma io ho tre telefoni non me ne faccio niente ma consapevolmente ho tre telefoni consapevolmente no non si può dire però ne ho voluto prendere tre perchè chissà la mia stupidità cosa mi diceva e ne ho preso tre adesso ne ho tre mi vanno bene tutte e due però malauguratamente diciamo se me ne cade uno da qualche parte o nella doccia o nel bidet o anche nel water non è una cosa bella quindi meglio salvaguardare il telefono che cercare di averne uno che non che è già buono di per sé che come si può dire no aspettate fatemi spiegare meglio sì meglio avere un telefono che che ti piace tanto come questo che ho io alle 13 che è molto buono che cascarti nell'acqua chissà dove nell'acqua in generale e ciao ciao e i tuoi dati vengono persi no non ci sto quindi in bagno io non entro per questo motivo anche perché è molto piccolo il mio bagno non so se l'avete visto se cercate i video più là i video più visti non lo so adesso come dirvelo ma anche lì c'è un pericolo che mi scade il telefono quindi no anche la telecamera la sto usando poco perché mi trovo meglio usare il telefonino ok tutto lì e niente ragazze adesso io vi metto un po' così perché ho l'impresentimento che non mi vediate bene tutto lì nel senso che sì che vi ho messo un po' storte boh vabbè non lo so io cosa ho fatto ma adesso ok va bene fatemi sapere qua sotto i commenti se mi vedete bene e se la qualità del video è buona perché ho il presentimento che non si vede anche bene comunque un bacio e a presto ciao vi saluto ciao 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 ciao